buongiorno eccoci qua insieme al maestro cristian oggi sempre live fisarmonica e organetto quindi voglio dire senza base vorremmo fare un saltarello però cosa dobbiamo ricordare ai nostri amici gli vogliamo ricordare di iscrivervi ai nostri canali youtube di musica totalmente gratuita è il cubano social che è lui e io sono cristian ruggeri organetto music facilissimo scrivete bene mi raccomando attivate la campanellina c'è un tasto rosso con scritto iscriviti fate clic siete a posto non vi succede niente facile facile bene andiamo maestro vai partiamo con un bel sol settimo e dici vai grazie a tutti 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 grazie a tutti